ciao ben tornati ben torna a ti mi stavo preparando passiamo ai saluti saluti salutiamo natalie parvenza un bacione natalie grazie che ci segui ciao 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 e la sua mamma giusy gallucci ciao giusy grazie anche a te dei messaggini dei messaggini e poi salutiamo marty la grande un bacione marty franci kawaii un bacione anche a te alex alexia e alexia chiarelli 2006 grazie a tutti di seguirci seguirci vi abbraccio ecco l'ho abbracciato poi adesso prima di iniziare a proseguire con la carrozzina di ieri volevo carrozzina no ha detto carrozzina aspettate che chiudo le pagine qua dai e apro attenta e volevo dirvi una cosa c'è un gruppo un gruppo su facebook perché è iscritto a facebook di seguirlo si chiama i love fashionista è un gruppo bellissimo adesso vi faccio vedere la pagina gruppo bellissimo dove si postano tutte le barbie dove si fanno anche dei concorsi photoshop photoshop contest contest dove potete inviare la fossa foto della vostra barbie bella 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 perché poi c'è ruth che oh ruth 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 il gruppo è capitanato dal nostro caro amico enzo qui adoro ciò insomma ti adoro e adesso vi faccio vedere la pagina coren sì ecco qua il gruppo i love fashionista bellissimo gruppo mi raccomando vi aspetto vi aspetto vi aspetto qua iscrivetevi tutti a i love fashionista si mette si bisogna fare il cuore l'iscrizione vedi che io sono iscritta sono un iscritta di questo gruppo bellissimo bello ci sono guarda vi faccio vedere un antiprima guardate che ecco le selezioni vedete il doris le selezioni sono aperte le iscrizioni per le prossime sfirante top models il bando aperto basta inviare una foto sotto al al riquadro che volete che vedete e per partecipare Enzo caro Enzo vedete che foto che posta guarda senti senti Alessia vedete tutte le foto questo è il gruppo ed è spettacolare 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 Ehi sì abbiamo finito i saluti e mi raccomando vi aspetto sul gruppo eh Vati bravi bambini mi aspetto tutti in fila inghiana eh Non fingete mi raccomando tutti in fila inghiana in ordine Ok ieri abbiamo la cittadina con questa Ora andremo a colorarla e a mettere la fodera Fai le maniglie per spingere se no E insomma andremo a farla dire la più bella perché così non mi piace Vabbè non è rotta in lì No vabbè allora iniziamo a colorarla Voi potete farla di come volete voi Io adesso andrò a colorare le ruote e tutto qua perché qua andrà ricoperto quindi non si vede Ah dopo quando ho colorato Ecco qua ho colorato adesso ho preso un pezzo di stoffa 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 della borsa Pelle Pelle scusate in pelle una borsa da buttare via tagliata e faremo il sedile qua Ho preso la misura e ho tagliato questi qua vedete Così andrà dentro qua E sotto mettere un pezzo di spugna No? Come dove appoggia il chiu Oppure potete mettere il cotone idrofilo Quello che volete voi Dove è il cotone idrofilo? Il cotone bianco Dove è il cotone bianco? Vabbè lascia perdere va Adesso questo è troppo alto io andrò a ritagliarlo Ok vedete l'ho tagliato in due uniti e adesso andremo a mettere il fuscino che fa là da fuscino sotto E andrò a incollare il tutto con la colla caldo Vedete dovrebbe venire Aspettate 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 Adesso andiamo a incollare Ho messo con la stessa fodera ho rifoderato anche la seggia, il portapiedi, il portagambe, l'appoggi gambe Il portagambe Il portagambe Poi ho fatto lo schienale e appoggi i braccio Portagambe Appoggi i braccio Ora andremo a fare il Hashtag portagambe Dove si Dove mettere i margine per portare Per poter spingere No Io ho usato un fil di ferro L'ho piegato Vedete L'ho già piegato Per farlo Ho preso la misura della larghezza di qua E ho fatto tipo qua Guarda Guarda che bello E poi lo andremo a incollare all'interno Così Prendete l'altezza Della Barbie Che dovrà spingere No Vedete È perfetta l'altezza E andiamo a incollarlo 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 Vedete Ho messo il fil di ferro incollato qua Poi Io ho messo su un pezzo di stoffa di pelle della borsa Così non va più da nessuna parte Ora andremo a rimettere Sul schienale E non si vede una cicaleca Vedete E si può spingere Non cammina Perfetto E va via Su Via Comoda Comoda E via Bene 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 Con questo video è tutto Noi vi salutiamo Mi raccomando Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Dai no lo dico sempre io Quindi Attivate la campanella Per ricevere la notifica di video Commentate No Iscrivetevi Condividete C'è il pappagallo che vuola Bene Condividete Condividete Il gesso Perché si è fatta male Barbie E la devono portare Dal dottore Quindi faremo il gesso Fortunatamente però non Giada Giada la userà Quando dovrà partorire Ovvio no E con questo video è tutto Noi vi salutiamo E vi diamo appuntamento A domani con l'altro video Dai ciao Chica boom Chica boom Bam 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 Ciao